ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube non mi stancherò mai di dire che doge è uno dei produttori di telefonini sempre più all'avanguardia che sta creando dispositivi ogni giorno più evoluti questo è il doge v20 pro lo sblocco con riconoscimento facciale vi faccio vedere rapidamente la schermata principale ma quello che a voi interessa è la parte posteriore perché abbiamo un comparto fotografico ricchissimo con addirittura una termocamera e volutissima con funzioni particolari che adesso vi farò vedere visione notturna e insomma ragazzi guardate qua cosa abbiamo ma anche la finitura della parte posteriore allora c'è da dire una cosa tra l'altro su doge oltre a fare dei telefonini che funzionano bene sono belli da vedere perché si sta staccando da quel design che contraddistingue solitamente i telefoni ragged cioè telefonini poco belli non curati nell'estetica per i quali si è sempre badato più che altro alla robustezza loro invece sono riusciti a combinare la qualità la finitura estetica e la robustezza arricchendo anche l'interno del telefonino pensate 256 giga espandibili fino a 2 terabyte con una memoria ram espandibile fino a 20 giga che però di base ne ha 12 più 8 virtuali insomma un telefonino davvero molto valido mettiamolo sul bancone vi faccio vedere tutte le caratteristiche per i prezzi vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione perché lo sapete poi cambiano inutile dire un prezzo adesso fra un mese è diverso chi guarda il video fra un mese troverà il prezzo del mese precedente quindi andate a vedere giù nel link del primo commento e nella descrizione adesso però iniziamo guardiamo come sempre la confezione ed il suo contenuto venduto in una scatola di colore giallo come tutti gli ultimi prodotti della doge all'interno troviamo una cover che tra l'altro oltre a essere cover e quindi proteggerlo esteticamente anche quest'altro accessorio che ci permette quindi posizionare il telefono poterlo utilizzare come stand per guardare video eccetera quindi una cover che protegge la sua finitura essendo un telefonino indistruttibile non vuol dire che non si graffia se strofina su superfici ruvide quindi nel caso in cui dovete portarlo in cantiere potete utilizzare questa cover viene venduto ovviamente con tutte le protezioni le varie pellicole sul display ma continuiamo a guardare più in basso quindi troviamo il solito libretto della garanzia e le pezzette per poter applicare il vetrino sostitutivo un manuale di istruzioni carica batterie usb c un cavo per poter utilizzare il telefonino anche come power bank e poi un cavo di ricarica usb c usb c allora guardiamo il telefonino voglio farvi vedere la sua finitura e la qualità guardate alla parte posteriore come sia rifinita considerate che c'è ancora un'altra plastica protettiva che potrebbe essere rimossa però la finitura è davvero di alto livello da questa parte abbiamo questa finitura alluminio quindi argentata i vari tastini questo è il tasto per accendere e spegnere tra l'altro con il lettore di impronta digitale il bilanciere per il volume e da questa parte troviamo il tastino smart personalizzabile lo slot per poter inserire sia memory card che micro sd come vedete a differenza degli altri telefonini raggede indistruttibili anche della stessa doge questa volta non abbiamo quelle sporgenze zigrinate è leggermente più elegante perché piatto però la rientranza che abbiamo da questa parte protegge i tasti in questo caso abbiamo questa sporgenza che protegge anche la cornice leggermente rialzata forse sarà meno di mezzo millimetro però questo garantisce nel caso in cui il telefono strofini su una superficie liscia non possa graffiarsi sul display sulla parte alta non troviamo nulla invece sulla parte bassa troviamo il microfono l'altoparlante e l'ingresso per il cavo usb di tipo c adesso però sblocchiamo lo che ho fatto vedere lo sblocco con il riconoscimento facciale adesso vi faccio vedere lo sblocco o l'impronta digitale facciamo più prove per vedere quante volte riesce a sbloccare quindi prima si preme poi si poggia sbloccato immediatamente al primo tentativo facciamo un altro tentativo come vedete sblocca immediatamente quindi funziona perfettamente tutti i tentativi stanno andando a buon fine ok quindi visto questo adesso voglio farvi vedere la fotocamera quindi la funzione di infrarossi quindi aprendo questa applicazione avremo la possibilità di inquadrare le superfici vari oggetti avere riportato sul display le temperature relative in questo caso abbiamo la possibilità di utilizzare sia la versione quick quindi una versione rapida che ci dà la possibilità di inquadrare e vedere direttamente le temperature oppure possiamo utilizzare la versione pro aumenteranno le varie opzioni le varie icone quindi possiamo personalizzare ancora di più tutte le varie funzioni in questo caso vi faccio vedere per esempio inquadrando la mia mano mi dà le temperature sia la più alta che la più bassa più la temperatura del punto centrale quindi abbiamo la temperatura più bassa del bancone di circa 24 gradi la temperatura più alta di 37 gradi quindi dove la mano è più gialla e poi 33,9 nella zona centrale voi direte come mai qualcuno mi ha chiesto anche questo nei video precedenti della recensione di una termocamera la temperatura superficiale della pelle anche se puntato sulla fronte non corrisponde alla temperatura corporea tant'è che nel periodo del covi dei termometri che venivano utilizzati per rilevare la temperatura corporea elevata erano specifici per la misurazione della febbre perché la temperatura superficiale della pelle non indica la temperatura corporea i termometri che misurano la febbre sono tarati per stabilire in base alla temperatura della pelle quale possa essere la temperatura corporea in questo caso abbiamo anche questa funzione quindi andiamo su pro vi faccio vedere che aumentano quindi queste icone e abbiamo la possibilità per esempio in base a quello che dobbiamo misurare di stabilire l'emissività che cambia in base alla superficie quindi se è metallo se legno se pelle eccetera dobbiamo cambiare l'emissività diciamo che il 95 è il numero di emissività che troviamo su tutte le termocamere termometri infrarossi eccetera di base lo troviamo sempre sul 95 perché la maggior parte delle superfici hanno questo tipo di emissività bisogna impostare anche la temperatura ambiente in questo momento io qua ho 24,4 gradi quindi lo lascio a 25 e anche la distanza questo non ve lo permettono tutte le termocamere siamo a mezzo metro super giù va bene ma potrei anche regolarlo quindi impostare le vere distanze in base appunto alla distanza che ho io dall'oggetto quindi molto ricca da questo punto di vista chiudiamo questa schermata e andiamo su maggi qua abbiamo la possibilità di vedere solo l'immagine quindi con la termocamera come vedete abbiamo direttamente l'inquadratura per riceviamo dalla termocamera oppure possiamo utilizzare rgb quindi l'immagine a colori e avere la temperatura con i punti senza avere un riferimento poi del colore ma possiamo anche avere picture in picture quindi entrambe le immagini da questo lato non avremo alcun riferimento e poi sull'immagine a colori invece tutti i vari riferimenti chiudiamo e andiamo su mix in questo caso possiamo stabilire poi la centratura eccetera come vedete si va spostando la mano è leggermente sulla sinistra rispetto a quella che vediamo con la termocamera e in questo caso sulla destra quindi così verrà centrata perfettamente poi andiamo su quest'altro quindi così possiamo avere invece un'immagine miscelata e passare dall'immagine completamente termocamera oppure l'immagine completamente della telecamera in base a quello che dobbiamo inquadrare dobbiamo renderci conto bene dei dettagli e allora possiamo stabilire come vederlo quest'altro comando invece ci dà la possibilità di selezionare un'area per esempio io voglio misurare la temperatura di una telecamera che riscalda parecchio durante l'utilizzo e voglio vedere la differenza che c'è tra un punto e un altro allora utilizzando questo comando posso creare una linea fare in questo modo e mi dirà la temperatura che c'è in uno e nell'altro punto l1 per vederlo però qua posso cliccare su questa icona e qua avrò la lettura dei vari punti quindi massimo minimo e la via di mezzo possiamo anche stabilire alcuni punti quindi chiudiamo questo posso decidere per esempio di volere monitorare questo punto esatto che chiamerà più 1 più quest'altro che chiamerà p2 sempre premendo qua avrò più 1 p2 e riferimento della linea abbiamo diversi tipi di selezione posso pure creare un quadrato oppure posso creare un cerchio da quest'altra parte e guardando qua come vedete abbiamo tutti i vari riferimenti quindi non dobbiamo stare a guardare tutti questi dettagli basterà leggere da questa parte posizionare la nostra termocamera in modo che sia fissa e avere quindi tutte le varie letture in tempo reale ovviamente possiamo cancellare premendo direttamente il cestino ovviamente possiamo sia registrare un video che scattare una fotografia andando da un comando all'altro oppure possiamo pure creare dei timelapse possiamo ovviamente anche cambiare il tipo di visione quindi possiamo avere la visione col bianco e nero le diverse tonalità di colori come vedete va cambiando in base al tipo di misurazione stabiliremo quale sarà quella più adatta alla misura che vogliamo col bianco e nero abbiamo la possibilità di avere la temperatura fredda più chiara oppure più scura in base a quale premeremo come vedete si invertono ma io solitamente utilizzo questo di qua che è quello standard che si trova praticamente su tutte le termocamere ovviamente appena comprate quindi senza variare alcune impostazioni possiamo anche decidere il refresh quindi se 3 frame al secondo 5 frame al secondo oppure 10 frame al secondo ovviamente però come vi ho detto all'inizio questa termocamera può essere utilizzata anche per misurare la temperatura corporea quindi vedere se qualcuno per esempio alla febbre basta andare sul menu termometro mod quindi modalità termometro in questo caso la temperatura come vedete compare la forma umana può essere rilevata per capire se una persona alla febbre oppure no questa è una funzione specifica e la temperatura in questo caso cambierà poco fa come ricorderete misurava una temperatura diversa adesso 36 e mezzo diciamo che sto bene però possiamo anche cambiare poi alcune altre impostazioni possiamo accendere anche il led nella parte posteriore nel caso in cui siamo in una zona buia e possiamo cambiare pure il range di misurazione da meno 10 a 150 oppure da 100 gradi fino a 550 gradi io l'ho lasciato in automatico in modo che stabilisca da solo più funzioni avanzate eccetera ma questo poi ci richiede di entrare un po troppo nel menu come vedete come funzioni ne ha davvero tante e funziona bene l'ho confrontata con le altre termocamere vero già fatte conoscere tantissime sia termocamere specifiche solo termocamere termocamere integrate nei telefonini termocamere usb che si collegano sia al computer che ai telefonini e confrontandola e diciamo che tra una e l'altra di tutte quelle che vi ho fatto conoscere c'è circa mezzo grado un grado di differenza adesso guardiamo invece youtube apriamo come sempre un brano musicale e vediamo come si sente come vedete l'audio è davvero buono si sente bene in modo limpido e tappando il microfono in questo modo l'audio si ostruisce però c'è un però vi ho fatto vedere che da questa parte abbiamo questa rientranza l'abbiamo anche sulla parte bassa quindi se poggiamo il telefonino in verticale su un piano d'appoggio l'audio non verrà coperto vediamo anche il buffering andando veloce come vedete ok spostiamoci di tanto direi che come prestazioni per quanto riguarda la navigazione eccetera va molto bene ovviamente anche in questo caso abbiamo la solita cassetta degli attrezzi abbiamo la radio fm per poterla utilizzare è necessario collegare le cuffie e guardiamo qualche altra funzione quindi vediamo per esempio la funzione della fotocamera vi faccio vedere la telecamera solo in interno perché se funziona bene l'interno immaginiamoci in esterno allora questo è un manualetto che troviamo all'interno della confezione con alcune specifiche tecniche facciamo una fotografia inquadrando il fogliettino e quindi cercando di leggere poi le scritte più piccole allora andiamo nella galleria guardate la qualità si riesce a vedere tutto sono delle scritte davvero piccolissime riuscite a ingrandirle senza nessun problema anche la messa a fuoco è stata molto rapida vedremo ora pure la fotocamera notturna le prestazioni del comparto fotografico di questo telefonino abbiamo 64 megapixel per la fotocamera e il video arriva fino a 2k abbiamo la possibilità di dare diverse impostazioni quindi la risoluzione il formato della foto tutto quello che serve per avere eventualmente l'autoscatto eccetera è lo stesso per quanto riguarda i video in questo caso andando sulle impostazioni possiamo fare un video 2k possiamo avere la griglia possiamo fare tutto quello che serve per avere il nostro comparto fotografico personalizzato la funzione bellezza ci permette di variare alcune funzioni un aspetto differente super chiarezza è un effetto digitale che migliora la fotografia e con di più abbiamo lo scatto notturno che non è la visione notturna ma è uno scatto con tempi più lenti per poter acquisire più luce fotodinamiche figura a modo professionale ci dà la possibilità di variare i parametri della foto per quanto riguarda tempi di scatto iso bilanciamento del bianco eccetera panorama ci dà la possibilità di fare la fotografia panoramica azione lenta e al rallentatore timelapse e scansione intelligente quindi con codici qr eccetera questa invece la visione notturna che adesso stiamo vedendo semplicemente in bianco e nero perché la visione notturna a questa funzione di bianco e nero ma al buio ci permette di vedere tutto quello che non potremmo vedere quindi proviamo a fare una ripresa spegnendo tutte le luci e proviamo ad inquadrare questo ambiente allora ho spento tutte le luci ok adesso siamo al buio spendo pure la torcia dovremmo avere anche gli infrarossi di questa telecamera che però possono influire quindi spostiamola perché inganna la mettiamo da un'altra parte utilizziamo solo ed esclusivamente gli infrarossi di questo telefono guardate come riusciamo a vedere benissimo adesso cambio inquadratura vi faccio vedere pure un angolo nuovo del mio piccolo laboratorio e allora vi faccio vedere quindi così non state vedendo nulla metto il telefonino con la termocamera davanti e adesso state vedendo una novità in esclusiva e quindi il mio piccolo laboratorio con un'altra parte che finora non è mai apparsa e adesso inizierà a vedersi all'interno del mio canale ritorniamo da questa parte sperando di non inciampare perché ancora del materiale a terra come vedete riusciamo a vedere benissimo quindi ci permette sia di scattare fotografie che eventualmente di girare dei video andiamo quindi sul sito del venditore e diamo un'occhiata alle caratteristiche tecniche innanzitutto troviamo le varie immagini del prodotto come vi ho fatto vedere io alla finitura è possibile però averla anche di colore nero allora come vedete qua abbiamo le caratteristiche quindi la funzione della termocamera che vi ho fatto conoscere il processore quindi dimensi di 700 octa corda 2,2 gigahertz un display da 6,4 pollici amoled full hd dot display con tripla fotocamera da 64 megapixel 24 megapixel più 8 megapixel per quanto riguarda anche la telecamera grandangolare e la telecamera standard poi abbiamo 24 megapixel per la visione notturna 6000 mAh non è una batteria grandissima ma questo ci permette avere un telefonino comunque ricco di funzioni che non sia molto grosso supporta la funzione di carica inversa quindi collegando l'accessorio che vi ho fatto vedere poco fa e poi il cavo usb di ricarica di un altro telefonino possiamo utilizzarlo come power bank la telecamera frontale è della samsung e come vi spiegavo poco fa 12 giga di ram più 8 che prende dalla memoria di archiviazione possono essere espansi quindi fino a 20 giga invece per quanto riguarda la memoria di archiviazione abbiamo 256 giga espandibili fino a 2 terabyte ovviamente essendo un telefonino indistruttibile a tutte le varie certificazioni p68 e p69k e lo standard militare funzione nfc come vi dicevo poco fa sblocco con impronte digitali riconoscimento facciale eccetera per quanto riguarda la termocamera abbiamo una risoluzione di 1440 x 1080 invece le versioni precedenti erano 256 x 192 nella risoluzione sicuramente molto più elevata e può essere utilizzata per oltre mille metri di distanza per quanto riguarda la misurazione della termocamera e ci tengo a precisare che quello che io vi sto dicendo sono tutte cose che vi ho dimostrato quindi la qualità della termocamera la qualità di tutto ciò che riesce a fare questo telefonino che non sto gridando al miracolo per quanto riguarda foto e video sono telefonini più evoluti però riesce a darci delle belle foto dei bei video se non abbiamo delle pretese particolari per quanto riguarda la qualità se dobbiamo fare un album uno shooting fotografico delle riprese video importanti utilizziamo una telecamera utilizziamo una fotocamera di qualità e allora avremo la dei risultati elevatissimi ma se dobbiamo utilizzare un telefonino per avere dei video delle foto ricordo condividerle nei social e avere comunque delle fotografie che vanno bene perché le foto vanno benissimo solo solo i video che non sono il top perché già la tecnologia è arrivata a passi più evoluti però il prezzo sarebbe aumentato di tanto siccome ha già tantissime cose che riesce a fare dalla visione notturno una termocamera davvero voluta che si può utilizzare anche per lavoro un design davvero fatto bene allora secondo me è un buon telefonino io mi sento di consigliarve lo vi invito ad andare giù nel primo commento nella descrizione per vedere il link sperando di ottenere un codice di sconto quindi farvi risparmiare un bel po e basta prima ricordatevi di iscrivervi al canale cliccare sulla campanella attivare le notifiche ci vediamo a tutti nel prossimo video ciao da riccardo e a presto